Musica Benvenuti amici telespettatori di Telenuova con questo spazio focus con il sindaco rieletto di Nocera Inferiore Maglio Torquato innanzitutto complimenti ancora sindaco Grazie Allora ci siamo, siamo nell'operatività che poi tra l'altro devo dire la verità non si è mai fermata nonostante insomma questa campagna elettorale e questo ovviamente è un merito sia della macchina amministrativa che del suo operato personale ecco che cosa significa questa vittoria, che cosa significa la vittoria di Maglio Torquato a livello personale ma anche a livello di liste visto che c'erano tante liste importanti che l'hanno accompagnata in questa avventura Ma è un risultato più che positivo dal punto di vista ovviamente personale perché è stato un risultato che mi ha dato sostegno e consenso al di là di ogni aspettativa essere riconfermati con il 65% dei voti è sicuramente un successo personale del quale sono grato ai nocerini ed è anche il frutto di un lavoro politico importante che abbiamo svolto rispetto alle liste di coalizione ovviamente senza mancare di rilevare e di osservare come le liste di area civica cioè Uniti per Torquato e Torquato Sindaco e Uniti per Torquato abbiano raccolto le due liste di area civica un consenso di circa 7.000 voti quindi anzi poco più dei 7.000 voti e quindi è davvero un risultato importante che ha bilanciato una coalizione che altrimenti avrebbe visto la prevalenza esclusiva delle liste politiche e qui va anche riconosciuto il merito di avere contribuito a questa vittoria sicuramente significativa che è una vittoria del Sindaco sicuramente ed anche delle liste di coalizione Mi consenta una domanda qualcuno ha dichiarato che questo di non c'era inferiore è l'ultimo avamposto nel nostro territorio del Partito Democratico vuole commentarlo? Ma non penso si tratti di avamposti del Partito Democratico si tratta di una realtà amministrativa che abbiamo governato per 5 anni rispetto alla quale i cittadini hanno ritenuto di premiare il Sindaco e le liste di coalizione quindi questo è il risultato sicuramente importante poi dobbiamo essere un po' più attenti alle questioni di amministrazione e un po' meno solo a quelle dei partiti C'è poi il discorso opposizione all'opposizione ci sono ovviamente quasi praticamente tutti i candidati a Sindaco delle altre coalizioni non ci sono però rappresentatività delle liste questo che cosa significa? Significa che di fatto i candidati Sindaco mi riferisco in particolare a quelli che erano a capo di coalizione di un tre liste hanno di fatto utilizzato il meccanismo delle liste e i voti raccolti dai candidati al Consiglio Comunale per siedere loro in Consiglio Comunale come consiglieri non c'era bisogno che si candidassero a Sindaco bastava che si candidassero al Consiglio Comunale è chiaro che la vera e propria legittimazione popolare al Consiglio Comunale va a merito di quei consiglieri comunali che si sono candidati al Consiglio Comunale hanno raccolto preferenze non a chi invece si candida a Sindaco e utilizza i voti dei candidati al Consiglio Comunale delle proprie liste per siedere in Consiglio Comunale Come una sottrazione di spazi praticamente? Di fatto con un utilizzo, un veicolo è come se io costruissi delle liste al Consiglio Comunale chiedo un sacrificio a lei o ad altri per raccogliere preferenze a nome proprio per siedere in Consiglio Comunale lei raccoglie le preferenze però poi magari le liste non sono tanto forti e un altro al posto suo si va a siedere in Consiglio Comunale il meccanismo è stato quello Sindaco, lei dicevo anche in apertura nel preludio di questo appuntamento questo non mi permetto di dire ovviamente non vale per le liste individuali per esempio c'è la lista dei 5 Stelle che chiaramente è una lista che esprime un candidato Sindaco e quindi si riconosce in quella posizione ma chi ha fatto tre liste, due liste e poi utilizza i consensi di quei ragazzi di quei giovani, di quei professionisti, di quelle persone che si decandidano al Consiglio beh quella è un'altra storia Senta, prima di arrivare alle operatività di cui parlavamo in apertura e parlavo in apertura le chiedo quali sono i risvolti che anche personalmente l'hanno un po' forse toccata rispetto alla questione UDC, quel video insomma sul presunto voto di scambio tutte queste situazioni legate all'età estera ecco, come l'ha colpita se l'ha colpita in un certo qual senso? No, mi ha sicuramente colpito come chiunque cittadino abbia assistito a quella vicenda, a quel video la magistratura sta svolgendo un'attività di verifiche e di indagine le persone direttamente interessate da quella vicenda o la persona direttamente interessata da quella vicenda hanno respinto ogni accusa che era presuntivamente deducibile da quel video peraltro che metteva insieme due episodi differenti quindi non riconducibili neanche alla stessa figura, alla stessa persona io credo che si ha il dovere di attendere l'esito di tutte le verifiche noi abbiamo fatto una verifica procedimentale interna ho trasmesso quegli atti alla procura perché potesse utilizzarli a fine delle indagini necessarie così come avevo promesso che sarebbe stato fatto e però bisogna attendere perché non si possono trarre giudizi sommari anche perché di questi tempi è stato sollevato soprattutto da parte di alcune opposizioni neanche in modo trasparente, chiaro e diretto un polverone finalizzato a creare confusione a mascherare poi una sconfitta loro micidiale dal punto di vista elettorale quindi bisogna tenere destinte le due vicende l'accertamento della verità da pretestosità di carattere politico a proposito di politica e di discorso politico ma più che altro di discorso amministrativo questa giunta c'è? beh la giunta ormai è pressoché fatta manca qualche dettaglio per la prossima settimana come avevo detto per l'inizio settimana sarà comunicata ufficialmente quindi parte la convocazione del Consiglio Comunale c'è il rientro anche di un discorso o di una nuova apertura al dialogo con i socialisti oppure c'è ancora un attimo di difficoltà? no, la vicenda socialista merita una riflessione chiara fatta ad altavoce anche attraverso le telecamere io credo che sia stato sbagliato da parte della segreteria provinciale lavorare sulla proposizione di un unico nome anche perché non era quello che avevo chiesto io avevo chiesto di fornire una rosa di nomi una terna di nomi cioè alcun gruppo di nomi all'interno dei quali poi il sindaco avrebbe fatto la propria scelta secondo le necessità di giunta ovviamente su proposta del partito e ritengo che sia stata altrettanto paritariamente sbagliata perché come dire precipitosa la dichiarazione di autonomia da parte del gruppo consigliare eletto in quella lista perché purtuttavia espressione del complesso di una lista ovviamente nel rispetto delle preferenze sicuramente maggioritarie che quei tre consiglieri comunali hanno raccolto io invito entrambe le parti a riaprire tra di loro un dialogo ovviamente resta questa una fase con loro di interlocuzione perché non si può pensare di dare spazio ad un gruppo consigliare che non sia espressione di una rappresentanza politica né ad una rappresentanza politica che sia priva di un gruppo consigliare Le parole di Enzo Maraio però sono state molto molto forti tra l'altro sinceramente anche giornalisticamente noi non ce l'aspettavamo questo dialogo rispetto a quelle dichiarazioni può comunque riprendere immediatamente avete già parlato rispetto a queste problematiche oppure avete in mente di incontrarvi prima della formazione della giunta? Io certamente ci incontreremo prima della formazione della giunta alla luce di quello che ho detto anche adesso e cioè un invito alla ricomposizione di questa vertenza che è solo interna al Partito Socialista che però non toccherà ovviamente le decisioni dell'amministrazione che vanno prese nell'interesse dell'amministrazione comunale e della città di questo crediamo di avere dato ampiamente prova così come di avere dato ampiamente spazio alle rappresentanze politiche addirittura abbiamo garantito la presenza di rappresentanze in giunta nel corso del precedente mandato anche a chi in corso d'opera aveva perso la rappresentanza consigliare ma si trattava ovviamente di uno scorcio temporaneo qui parliamo dell'avvio di un'amministrazione questa è la ragione per la quale io invito loro a riaprire un dialogo se questo non dovesse essere allora è chiaro che assumerò la decisione in totale autonomia Ci sono poi le operatività, l'operosità e la voglia di far ripartire immediatamente ma come dicevo non si è mai praticamente fermata la macchina amministrativa lei è stato immediatamente insomma da poi vista dell'attività elaborata in questi primi giorni anche post campagna elettorale per la questione IACP molto molto attento e attivo ecco che cosa possiamo dire come novità Che quella vicenda come abbiamo già detto ampiamente abbiamo avuto la stipola, avemmo la stipola di un verbale di conferenza di servizi l'8 giugno scorso e alla vigilia proprio della scadenza elettorale si deve tradurre in un atto pubblico che sarà stipulato di qui a breve, a brevissimo e ovviamente bisogna poi correre su quella vicenda così come ci sono tante altre vicende aperte la questione per esempio della bonifica dei collettamenti fognari ho letto di una riunione che c'è stata tra alcuni cittadini presso la bottega Eco Solidale però vanno anche informati questi cittadini che questa attività che è di competenza regionale non di competenza comunale è stata prontamente più volte sollecitata dal sottoscritto e dalla sua amministrazione già nello scorso mandato e ancora di recente, non più tardi di un 7-8 giorni fa, circa 10 giorni fa quando venne il ministro? no, quando venne il ministro era durante la fase della campagna elettorale io mi riferisco a dopo le elezioni quando abbiamo nuovamente risollecitato l'ufficio di staff del presidente della regione abbiamo ritrasmesso ancora una volta anche all'ufficio di staff del presidente della regione gli atti che avevamo già trasmesso a Gori, Arcadis, autorità di Bacino perché siamo al progetto definitivo ovviamente bisogna fare presto per completare i lavori riunirsi e manifestare va bene però bisogna anche avere cognizione di causa delle attività che sono state poste in essere che vengono poste in essere dall'amministrazione che ripeto non è l'ente che deve realizzare i sistemi di depurazione e fognari ci sono anche dei nuovi dialoghi che si potrebbero aprire per quanto riguarda gli strumenti di concertazione in particolare la patto territoriale quali sono le novità possibili? io credo che si è finiti su quella vicenda come temevamo noi abbiamo anche avallato una specie di retromarcia durante la mia consigliatura con la presidenza De Maio che è durata poco tempo per tentare un recupero di quegli strumenti di programmazione credo che davvero il tempo sia scaduto sia esaurito non credo che ci sia la volontà di tutti i comuni di procedere con quegli strumenti ma di procedere attraverso strumenti differenti sempre alla concertazione tra comuni per problematiche sovracomunali la viabilità, i sistemi di depurazione e una serie di altri interventi però ormai davvero il tempo è scaduto tenerli in vita così come sono senza che ci sia una volontà unitaria da parte di tutti non ha senso se dovesse esserci una volontà unitaria da parte di tutti ne terremo conto e considereremo il da farsi ci sono anche altri problemi invece sui quali credo sia giusto appuntare l'attenzione noi abbiamo una situazione emergenziale in ASL la domanda che le vogliamo fare è che oggi richiede la massima sensibilità e la massima attenzione io sarò al presidio che si terrà presso la direzione sanitaria in ospedale con le rappresentanze sindacali sollecito fortemente la direzione generale a intervenire subito è un anno che stiamo perdendo tempo senza avere risposte operative concrete, effettive prima si parla di sblocco dei turnover poi col contagocce arriva personale qui ovviamente perché non ci sono le disponibilità la mobilità a venire qui magari da parte di altri ospedali ma anche perché ritengo ad oggi l'azione della direzione generale dell'ASL inefficace dal punto di vista dei risultati quindi non ho un problema a dirlo perché se poi la situazione ospedaliera deve rimanere caricata tutta sulle spalle dei medici che ci sono quei pochi che ancora resistono del personale paramedico che ancora resiste del direttore sanitario qui va la mia stima per il modo in cui sta reggendo il cerino e noi rischiamo di esplodere ancora una volta in piena estate l'ennesima estate mentre si annunziano cose che poi non si fanno allora io credo che il direttore generale debba dare conto all'utenza alle amministrazioni comunali al personale di quello che non si sta facendo o quantomeno che non si riesce a fare l'ultima la chiedo sulle politiche sociali sul piano di zona ci sono due nuovi sindaci nell'ambito che riguarda anche Nocera Inferiore lei ovviamente il sindaco di Nocera Superiore ci sono due nuovi sindaci a Rocca Piemonte e a Castel San Giorgio si apre una nuova fase un nuovo dialogo per concertare meglio le azioni da mettere in campo? Ma la fase si era già aperta noi avevamo individuato un percorso che dovrebbe andare verso l'azienda consortile di qui al 30 di settembre quegli enti si sono impegnati sebbene attraverso amministrazioni precedenti a quella scelta e noi crediamo che sia una scelta opportuna ed utile nell'interesse e nel funzionamento della gestione dei servizi di piano è una scelta che va fatta con trasparenza con imparzialità con garanzie dal punto di vista tecnico e dal punto di vista economico e con garanzie di funzionalità che siano sottratte alle ingerenze politiche lo dico perché questo è un passaggio importante che credo condividiamo sicuramente condividiamo sia io che il sindaco di Nocera Superiore ma sicuramente anche i nuovi sindaci appena eletti cui rinnovo i miei auguri L'ultimissima è un po' scrittum una dedica ai cittadini perché è stato un tributo importantissimo quello che le hanno conferito con questo maxi voto che è stato appunto dato nei suoi confronti che cosa possiamo dire ai cittadini di Nocera Superiore anche a quelli che non l'hanno votato? Innanzitutto ringrazio coloro che mi hanno votato e questo è il primo dovere e sentire da parte mia a tutta la cittadinanza rinnovo o meglio ricordo quello che è stato il mio atteggiamento per cinque anni e che continuerà ad essere tale ovviamente su obiettivi diversi che è un atteggiamento di prudenza e di cautela nelle azioni la prudenza è una virtù biblica senza la misura nelle cose non si fanno cose buone si fanno cose affrettate spesso sbagliate abbiamo un mandato importante davanti le azioni che andranno poste in campo sono nell'interesse della città di Nocera e bisognerà dare modo e tempo di svilupparle secondo questo nuovo ciclo amministrativo oltre a Capitelli mi dice un altro assessore che ha già in mente no non diciamo nulla prima del decreto di nomina se no creiamo imbarazzo nelle persone grazie a Maglio Torquato grazie a telespettatori per aver seguito questa pagina focus di Tele Nuova grazie ancora Sindaco e buon lavoro grazie a voi grazie a voi grazie a tutti grazie a tutti